Oratorio dei Santi Sebastiano e Rocco di Campoligure, tanti rumori in sottofondo di un paese vitale in questo presepe di dimensioni veramente giganti e meccanizzato. Sì, questa è un'eccellenza per Campoligure, una delle varie 70 metri quadrati di superficie in cui ci sono circa 100 movimenti, il più vecchio è all'inizio del 1800, rappresentano praticamente oltre all'attività tutte quelle che sono le attività del territorio, che era basato sulla pastorizia, ma sulla dilizia, sui fabbri, sui boscaioli, quindi diciamo abbiamo tutto, dall'acqua che bolle alla mucca che fornisce il latte. Tutto si vede, tutto è possibile nei minimi dettagli, un qualcosa di straordinario. Antonio, ma quanto ci mettete a montarlo? Dove non si vede ci sono appunto decine e decine di meccanismi. Iniziamo verso i primi di settembre e finiamo alle settimane prima di dicembre. Accidenti, Pier Domenico, se noi infiliamo le monetine nei vari punti, si muovono diversi personaggi. Come in questo caso, se mettiamo la monetina, vediamo chi è che fa... Il pastore Gelindo, questo è il pastore Gelindo che fa l'inchino a Gesù Bambino, ovviamente, è come omaggio. E questo è un movimento, anche questo, di una certa età, abbastanza antico, vecchio. È un bel movimento. Ci credo. E andiamo a vedere anche l'altro punto di vista. Quello è il ponte di Rossiglione, sulla Gargassa. Poi abbiamo il cimitero di Campoligure, la chiesa di San Michele. Questo è il ponte di Campoligure, romano. E qua abbiamo il castello di Campoligure. Bellissimo. E qua abbiamo il convento, che adesso è stato comperato, diciamo, dal comune di Campoligure e verrà messo in ordine, penso. Ecco, se vi affacerete qua, quando verrete a visitare, noterete la dovizia di particolari dell'interno. Anche in questo caso chiudiamo addirittura con un movimento, ma anche con gli auguri di questo. sentiamo. Grazie per l'offerta. Grazie per l'offerta, dice. Complimenti veramente per questo presepe e buon Natale a tutti. Grazie.